Guido Conforti, nato il 30 marzo 1865 a Casa Lora di Ravadese, nel Parmense, aveva una volontà di ferro e una passione travolgente per la diffusione del Vangelo. Nonostante le sue condizioni di salute precarie, afflitto da epilessia e sonnambulismo, non si è lasciato scoraggiare. Guido ha intrapreso con foga e tenacia il cammino per realizzare il suo sogno, riprendere l'opera di evangelizzazione in Cina, là dove il grande missionario gesuita, San Francesco Saverio, era stato costretto a interrompere la sua missione a causa della morte, avvenuta nel 1552. Nonostante le limitazioni imposte dalla malattia, Guido non si è arreso. Ha fondato un istituto missionario chiamato Istituto Emiliano per le Missioni Estere, che in seguito sarebbe stato riconosciuto come Congregazione di San Francesco Saverio per le Missioni Estere. All'inizio aveva pochi alunni e un solo prete a sostenerlo, ma presto ha potuto inviare i primi due missionari saveriani in Cina, Gaio Rastelli e Odoardo Mainini. La situazione per Guido era complessa. Mentre ricopriva il ruolo di vicario generale della Diocesi di Parma, si dedicava alla formazione di sacerdoti da mandare in missione. In quel periodo storico, la missione era spesso vista come una perdita di risorse per il clero locale, ma Guido si impegnò a convincere i suoi confratelli che la Chiesa, per sua stessa natura, era missionaria. Nel 1902, all'età di 37 anni, Guido fu nominato arcivescovo di Ravenna, ma a causa dell'aggravarsi della sua malattia, dovette ritirarsi dopo soli un anno dalla cattedra di Santa Pollinare. Nel frattempo, uno dei suoi missionari in Cina morì e l'altro fece ritorno in Italia. Durante quel periodo, Guido si dedicò alla formazione dei giovani aspiranti missionari. Nonostante le sfide e le limitazioni imposte dalla sua salute, Guido Conforti ha lasciato un'impronta indelebile nella diffusione del Vangelo. Attraverso la sua congregazione missionaria ha continuato l'opera di San Francesco Saverio, reintroducendo lo spirito evangelico della missione a Gentes nella vita della Chiesa. La sua storia è un esempio di determinazione, coraggio e dedizione, e il suo impegno nel portare il Vangelo a nuove terre è un'ispirazione per tutti coloro che desiderano seguire le orme dei grandi missionari della storia. Martirologio romano A Parma, beato Guido Maria Conforti, vescovo che, da buon pastore, sempre vegliò in difesa della Chiesa e della fede del suo popolo e, spinto dalla sollecitudine per l'evangelizzazione dei popoli, fondò la Pia Società di San Francesco Saverio. Preghiera a San Guido Maria Conforti Dio, Padre di tutte le genti, che nello spirito del Tuo Figlio sei origine di tutto ciò che è buono e santo. Ti lodiamo per la vita del Tuo servo Guido Conforti. Egli, contemplando nel Tuo Figlio crocifisso il Tuo amore per ogni creatura, ha dedicato tutto se stesso all'urgenza dell'annuncio del Vangelo. Ti ringraziamo per averlo dato ai missionari saveriani come padre, alla Chiesa come pastore e missionario, a tutti come esempio di virtù e modello di santità. Ti preghiamo per Sua intercessione. Accresci la nostra fede perché possiamo essere annunciatori del Tuo amore, testimoni di speranza e costruttori del Tuo regno. A Te la lode e la gloria nei secoli. Amen. Grazie di cuore.